Laboratori creativi, giochi interattivi e simulazioni dedicate a promuovere tra i banchi di scuola l'attenzione all'ambiente in ogni sua forma. È la grande macchina del mondo, l'iniziativa di Era Ambiente che ha coinvolto oltre 200 bambini delle scuole materna e primaria di Pozzilli. Siamo convinti che per fare dei cittadini più consapevoli domani occorra partire proprio da qui, dai bambini e cerchiamo di coinvolgerli con attività divertenti, con laboratori, con attività teatrali per avvicinarli al mondo delle energie rinnovabili, per insegnargli a fare meglio la raccolta differenziata, per trasmettergli l'importanza dell'economia circolare nelle piccole cose. Nelle due giornate dedicate al rispetto della terra ogni classe ha svolto progetti differenti in base ai diversi temi e all'età dei partecipanti. Abbiamo fatto diversi disegni, abbiamo avuto diversi eventi nel corso dell'anno come la giornata della terra, abbiamo messo sotto forma di disegno ciò che loro hanno interiorizzato riguardo al rispetto dell'ambiente. Ogni attività è stata guidata da un educatore seguendo il filo del divertimento e dell'interazione. I ragazzi sono impegnati in un piccolo gioco che assomiglia a quello del gioco dell'oca e sono divisi in gruppi, tirano i dadi e cadono sulle caselle tutte diverse che rappresentano delle domande, dei giochi diversi che devono fare. Quanta acqua si spreca quando si lascia il rubinetto aperto mentre ci si lava i denti? Circa 30 litri. Bravissime. Cosa hai imparato? Che non bisogna inquinare, non bisogna sprecare il cibo e l'acqua. Che non si buttano le cose nel mare. Perché? Perché se no che cosa succede? I pesci muoiono. Alcuni bambini, quelli più grandi, si sono cimentati invece con piccole api robot. Queste api sono dei b-bot, dei piccoli robottini che i bambini devono programmare per andare a risolvere i problemi che ci sono in questa città. Dove stanno andando le api, ragazzi? Qual è la missione? A spegnere la luce. Perché? È importante spegnere la luce? Perché se no poi l'energia sprega molto. L'energia. Grazie. Grazie.